Clorinda! Finalmente! È tutta la notte che ti cerco. Cosa facevi ieri sera nel campo cristiano? Ma non ero io. Erminia ha indossato i miei abiti ed è fuggita per venire da te. Erminia? Ma allora tu perché sei? Ma cosa hai? Non lo so. È difficile per una donna come me esprimere i propri sentimenti. Perché ti ho incontrato? Clorinda. Ho commesso una pazzia venendoti a cercare. Devo tornare. Non vorrei che mi vedessero gli uomini di Armida. È pericoloso per me e per te. Armida? Ma allora tu sai quello che è successo a Rinaldo? Vorrei ignorarlo. Ma Rinaldo dov'è? Che cosa gli hanno fatto? Ho sempre rispettato la tua volontà di combattere per una causa che ritieni giusta. Ma non credevo che potessi accettare l'insidia e il tradimento come... Non l'ho accettato. Ho fatto di tutto perché Armida non commettesse una simile viltà. Ma è stato inutile. Rinaldo è stato ucciso? No, te non credi. Ma è come se lo fosse. Armida lo tiene prigioniero. E forse la morte sarebbe meglio per lui. Dimmi dov'è. Devo liberarlo. Ma come puoi farlo? Se Armida si vedesse minacciata non faresti che accelerare la morte di Rinaldo. Armida non si accorgerà di niente se vado solo. Solo? Tu non lo faresti per salvare un amico? Il palazzo di Armida si trova nella valle di Cagliama. E' a un giorno di marcia da qui. Per entrare prendi questo. Crederanno che tu faccia parte del mio seguito. Addio. E' a un giorno di marcia da qui.